Sì, siamo a 700 chilometri da Pechino, che non è pochino, dove hanno girato l'ultimo samurai, io ho visto solo il primo, finale di tennis tavolo, si vince a tavolino, servizio perfetto, cucina ottima, forse un po' fuori mano. Ping pong si differenzia dal tennis, fosse stato uguale, si sarebbe chiamato tennis, gli atleti si studiano a Vicenza, ma arriveranno a breve. Il più giovane ha 16 anni, ma non consecutivi, potrei essere suo padre, farò il test del DNA. Per il momento è tutto, a voi la linea. Grazie.